25-18, 23-25, 25-17 e 25-21 con questi parziali la cucina e lube volley si porta a meno due dal secondo posto in campionato, gara senza storie con un unico passaggio a vuoto dei biancorossi che perdono il secondo set al photo finish. Sentiamo le dichiarazioni nel post partita di Capitan Podraskanin, dell'MVP Sabbi, autore di 25 punti e di coach Giuliani. Alla fine sono molto contento perché abbiamo vinto tre punti, perché siamo avvicinati a Trento che diciamo in teoria è il nostro obiettivo di chiudere bene la stagione e arrivare al secondo posto. E come dall'inizio abbiamo giocato abbastanza bene perché questa settimana veramente abbiamo allenato molto, perché comunque abbiamo giocato solo a questa partita, a questo weekend. Alla fine dobbiamo capire che il pallavolo non è solo l'attacco perché in attacco siamo veramente bravi, dobbiamo fare qualcosa da linea di 9 metri con la nostra battuta, sbagliare qualche battuta in meno e lavorare anche bene in difesa. Ho vissuto personalmente un periodo di forma poco brillante e oggi ci teniamo comunque a riprendere il mio posto e a farlo in maniera importante. Sono contento di aver aiutato la squadra comunque in momenti caldi della partita a sbrogliare alcune situazioni difficili e a portarci a casa questi benedetti tre punti che come sappiamo non possiamo permetterci più di regalare punti. Quello è un set che non mi è piaciuto, non mi è piaciuto come atteggiamento nella fase difensiva soprattutto, un'altra nota negativa è anche l'uscita di Kurek alla fine. Però insomma devo dire che i passi avanti si sono visti, si cominciano a vedere, un buon cambio palla fluido che non era stato così nelle partite precedenti e soprattutto muro, tanto muro. Non lo so, io adesso ne vedo una, sai che ho la vista corta, vedo quella di Perugia come una partita molto importante per saldare la classifica e quindi concentrati su quella, ora abbiamo il tempo di lavorarci tutta la settimana. A due punti da Trento l'obiettivo è in questo momento il secondo o ancora il primo posto? L'obiettivo è vincere tutte le gare da qui alla fine e poi si vedrà.